Una barca elettrica nella riserva naturale di Fondotoce, l'ulteriore passo del progetto Mobster che a Verbagna promuove il turismo sostenibile. Dopo la posa di colonnine di ricarica elettrica per auto, cui se ne aggiunge una al molo di Intra, il servizio di e-bike sharing arriva anche Elettra. Sarà utilizzata per scopi didattici e naturalistici nella zona della riserva naturale di Fondotoce, tra il canale e il fiume, spiega l'assessore all'ambiente Giorgio Comoli. Sarà una buona occasione per far conoscere ai nostri ragazzi e non solo loro le particolarità della riserva attraverso l'esperienza dei guardi a parco e dei volontari. La barca elettrica, oltre a vantare un'efficiente stabilità, è priva di barriere architettoniche, accessibile anche alle persone disabili. Il progetto proseguirà con la posa delle prossime settimane di altre quattro colonnine di ricarica elettrica per auto e due per biciclette. Il 6 ottobre, sempre a Verbagna, si terrà un convegno sul progetto Mobster, al quale parteciperanno le città e gli enti coinvolti.